Che cosa sono i sogni lucidi? In realtà niente di più e niente di meno di quello che già immaginate, delle situazioni oniriche in cui la persona che le vive è consapevole di stare sognando e può quindi prendere il controllo del proprio sogno. Questa è la caratteristica di partenza, ma le altre quali sono? La consapevolezza di star sognando, la consapevolezza della capacità decisionale e di controllo, la consapevolezza di funzioni di memoria ed evocazioni di ricordi, la consapevolezza di sé, la consapevolezza dell'ambiente del sogno, la consapevolezza del significato del sogno, la consapevolezza della concentrazione e della focalizzazione, la capacità di far avvenire qualunque cosa. Di solito le prime esperienze di sogni lucidi riguardano le esperienze eroiche, volare o ingozzarsi di cibo o il sesso, poi possono diventare più complesse. Adesso avrete sicuramente una chiara risposta alla domanda...